Buon pomeriggio, ben ritrovati al consueto appuntamento poveridiano con le notizie dal web della città edizione culturale, vediamo che cosa ci riserva alla serata. Come sempre cominciamo da un appuntamento di musica, Mila Agossi Quartet si esibisce questa sera a partire dalle ore 21 al Centro Jazz Torino nell'ambito di mito settembre musica. Uno spettacolo di danza, quello che vi segnaliamo invece al Teatro Reggio alle ore 21, si esibisce il balletto reale delle Fiandre, la direzione artistica di Katrin Bellez, i coreografi Balanchine e Kilian, tre spettacoli con musiche di Tchaikovsky, Britten e Obrich. Chiudiamo con il cinema, Sibelle, una ragazza di origine turchi scampata a un tentativo di suicidio per fuggire alle severe abitudini musulmani della famiglia, decide di chiedere aiuto a Kai, anche lui turco, per farsi sposare. Questa è la trama del film che propone il cinema massimo in sala 3 alle ore 20 e 50 per la regia di Fatih Akhil, film del 2004, anche questo rientra nell'ambito di mito settembre musica. Per quest'oggi è tutto, ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda, l'appuntamento come sempre domani alle ore 17 circa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.